Grazie a tutti Perché ti voglio armare Perché ti voglio armare Paola come fai il coccodrillo? Cristina come fai il coccodrillo? Bene Orlella come fai il coccodrillo? Bene Francesca? Bene Adesso sta in Australia e si è avvantaggiato Vito fammi il coccodrillo Vito come fai il coccodrillo Vito Bene Bene Fatta occhio Fa finta di divertirte dai Ehi se io fai il video o no? Dai Muove il culo Muove il culo Non si trovo scopiche di tutto Vito che fai il trenino Fai il trenino dai Fai il trenino dai Fai il trenino dai Poi Grazie a tutti